Abbiamo fatto il milione Il mio primo milione su youtube Ora sono uno youtuber Ora sono uno youtuber Ufficialmente Ufficialmente Lo fa vedere anche questa cosa qua Ufficialmente L'avete visto questo video Io ci sono in metà delle foto Ma io sto ubriaco Faccio cagare Stavo in serata con Diego Diego sta merdoso proprio Sì ovviamente lui se ogni Un minuto c'era il timer sul telefono La sveglia che suonava E si faceva la foto Uno sbatti incredibile Infatti non so come gli è andata Ma se stoppi nei momenti giusti Raga fa schifo proprio È un po' un gioco questo Potete farlo pure voi Aprite il video e stoppate quando Ah si 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 ci sta Oh c'è Questo fatto Interessante Si faccio così Questa è questa casa di Mike E qua ci sono io Io ho tutto ok qui Qui Questa è casa mia Oh Oh Spoiler del mio Oh 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 C'era Omi Oh Lino C'era Te pare che io devo Io sto con lui se ve lo faccio Una conversazione E letteralmente c'è stato lui Ogni minuto Cioè aspetta aspetta Cioè Era impossibile Lino Dov'è Lino Lino Eccolo Il momento Io però non ci sono Muschio Muschio Mangia muschio Mangia muschio Adesso arriva il momento Dei mostri Eccoci Ecco la merda Che arriva Guarda Innanzitutto Regà Diego dietro Ehm Allora Iniziamo dalla storyline Da Dal Dall'inizio Della serata di Diego Diego Ok ci sta E' così Poi Arriva un momento In cui Diego Questa è la mia testa Zu Grazie mille Ecco qua Ai 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 Io non voglio Il mostro Ecco Che schifo Di essere Esseri La merda Lo schifo La vergogna Di due persone Adulti poi Veramente uno schifo E non è finita qua Perché Io ho il merda Il Diego La schifezza Che cazzo Sta a fare qua E vabbè E poi mi sa che non ci sono più Video Ah C'è di nuovo Diego O forse no Ah sì sì Qua c'è Diego Che fuma tutto Rotto E finisce questo Veramente un bel video Bel video Bel video Video non male 8 8 8 su 8 su 8 su 12 E noi siamo tutti Crewmates E noi siamo tutti Fai la sub col Rhyme Perché tanto è gratis Esatto A 17 mila sub Faccio le action del collegio Ok Siamo i crewmates Grazie per la visione